Buona domenica a tutti ragazzi, sono Medino e bentornati con il 67esimo episodio delle Top 5 Plays of the Week Oggi siamo qua con un episodio davvero molto carico di clips davvero carine Iniziamo subito in quinta posizione con TryNuke che sta giocando con l'M27 in dominio veterano su Nuketown Inizia subito con due kills in hipfire, poi fa la quad feed e poi esce e ne uccide davvero davvero una marea Quindi davvero clip molto bello, ovviamente fa l'uccisione a catena Poi purtroppo non è riuscito a fare la six man on screen perché gliel'hanno splittata, rimane appunto però una gran clip Nella stessa partita continua, questo adesso clip sarà un po' più tra virgolette normale Perché ne uccide due, qua anche con un po' di fortuna, poi esce e fa la quad feed, esce ancora nello spawn, nasce uno e fa la five man on screen Quindi davvero davvero complimenti clip, davvero molto carina Passiamo ora in quarta posizione dove troviamo Ovinci che sta giocando con il DSR su overflow Fa un quickscope, gli sparano da dietro, lo turna, un altro quickscope, esce in uno spot davvero molto favorevole, tripla collateral L'ho deciso di mettere solo quarto perché comunque ha avuto abbastanza fortuna, comunque gran bella clip In terza posizione troviamo ExileZRams che sta giocando con l'XPR, fa subito una tripla collateral, prende anche il quarto, esce e prende il quinto per la five man on screen Clip a mio parere davvero molto carina perché comunque poteva anche fare la six man on se avesse avuto un po' più di fortuna, comunque vabbè In seconda posizione troviamo Busty che sta giocando con l'M12-16 su deathmatch, cerca di strugge e fa un trickshot davvero davvero stupendo In tipo across the map, longshot, tutto e ha preso davvero un trick spaventoso, davvero molto ma molto bello Ora andremo a rivederci la killcam, è stato davvero bello perché uno è in uno spot abbastanza strano Due ha fatto tanti giri, non me ne intendo di quanti sono, mi sembra un 720 almeno Potrei dire cazzate, comunque era anche longshot, quindi complimenti, trickshot davvero stupendo Con deciso di premiare, mettono in seconda posizione Passiamo ora al vincitore, alla top one della settimana, dove troviamo, aspettiamo chi sarà mai Troviamo Legend che sta giocando con il ballista, fa un headshot, un secondo headshot con collateral Prende il quarto, riswitcha e prende anche il quinto, ha fatto la five man on con doppio switch, davvero qualcosa di stupendo Guardate qua, prende il primo in headshot, poi fa una collateral, uno headshot e uno normale Riswitcha, prende anche il quarto in headshot, ha fatto anche la tripla headshot e poi conclude così Clip davvero, davvero magistrale di Legend Ragazzi, spero che la top vi sia piaciuta Vi voglio ringraziare perché stasettimana mi avete mandato davvero tante clips Ce ne avevo davvero una marea di stupende Ovviamente se me le avete mandate questa settimana potreste benissimo uscire anche la prossima Quindi keep calm E nulla ragazzi, spero che vi sia piaciuta Se così mi invito a fare un salto dalle mie pagine facebook Lascerò un mi piace, un commento Se ancora non lo siete iscrivervi al mio canale che fa sempre molto piacere Per oggi da Medina è tutto e... Bella!